Sono trascorsi dieci anni da quando il 19 giugno del 2011 Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero ha ricevuto l'ordinazione episcopale della Diocesi di Vallo della Lucania. Dieci anni ricchi di incontri, di esperienze, di rapporti umani e spirituali che hanno caratterizzato la guida pastorale del Vescovo della Chiesa Vallese. Dieci anni nei quali le comunità della Diocesi e il loro Vescovo hanno imparato a conoscersi, a frequentarsi, ad amarsi nella grazia di un cammino che tra slanci e difficoltà da ultimo l'anno e mezzo di emergenza pandemica hanno visto il pastore e i fedeli sempre più legati nell'annuncio della gioia del Vangelo. La Diocesi di Vallo della Lucania è una realtà viva che vede la presenza attiva di associazioni e movimenti ecclesiali, dall'azione cattolica alla Gesci, dall'unitalsi al rinnovamento nello Spirito Santo, alle decine e decine di realtà locali, le confraternite, i comitati festa, i CAV e il Movimento per la Vita, la Caritas e il Banco Alimentare, i sacerdoti, gli ordini religiosi, i catechisti, gli insegnanti di religione e i laici diversamente impegnati che costituiscono la presenza gioiosa e creativa della grazia dello Spirito in contesti molto variegati presenti sul territorio diocesano. I dieci anni dall'ordinazione episcopale coincidono inoltre con i 39 anni di ordinazione presbiteriale in una giornata di grazia sacramentale che è diventata una data significativa nel cammino pastorale della Chiesa diocesana. Una Chiesa in festa ma nel rispetto delle prescrizioni anti-covid, di cui la scelta di condividere la gioia di questa ricorrenza semplicemente con la celebrazione in cattedrale di una santa messa insieme al clero diocesano in programma sabato 19 giugno alle ore 10 e 30. Per le stesse ragioni l'ingresso in cattedrale sarà consentito soltanto a chi è munito di pass, per gli altri è raccomandato di unirsi in comunione di preghiera per festeggiare una giornata così speciale per l'intera Chiesa diocesana e per il suo pastore. Dalla redazione e dai telespettatori di Cilento Channel auguri a sua eccellenza Monsignor Ciro Miniero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.